Roberto Simonetti, ancora una volta il governo Rezzi tratta male gli alluvionati, che cosa hanno combinato? Sì, nella legge finanziaria hanno proposto un emendamento di implementazione di soli 60 milioni per il Fondo Emergenze. Questa cifra non è guaglia neanche la spesa che portano per il Fondo Immigrati, che è di 187 milioni. Quindi gli alluvionati valgono meno degli immigrati e questo non risolverà i problemi neanche emergenziali che l'alluvione ha portato. La sola piccola provincia di Biella, per esempio, ha più di 2 milioni di euro di necessità per la somma urgenza. Figurarsi il Basso Piemonte, il Milanese, tutta la Lombardia. Quindi queste cifre sono veramente ridicole, come è ridicola la legge di stabilità, che aumenta le tasse invece di diminuirle e non abbatte il cuno fiscale.